musica musica hi people bene gente eccoci qua in una puntata di giochi in di oggi ci troviamo su the black earth un picchiaduro si che giocherò da solo errori appena cominciati si ok capitolo 3 the red dream ah va bene psico psichiatra my name is david hello peghetto 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 contro il noroco c'è la bambina di ring ma che roba è senta scusi ehm signora zingara grazie sei un maledetta sei un maledetta quella madonna vai al vai al retro satana oh come ti permetti come si permette ok eh devo ancora capire i tasti forse eh eh jumps che era integrato alla madonna triplo calcio carpiato ma stai calma triplo 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 calcio eh ho perso no occhio quanto sei brutta brutta what what eh eh proprio sto avendo la mia vendetta come non mai voglio sapere come l'ho fatta ok forse ho capito un po' di tasti che io eh ok eh forse è un po' inquietante che cosa sono questi 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 vomiti di sangue oddio troppo bello ragazzi questo qua è un gioco gratis per le sattesse quindi potete divertirvi come mi pare eh intanto è bellissimo è pure stai calma però eh è stupenda questa cosa che sì 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 oh vuoi muo- mamma ah io questo ho fatto male mamma mia al limite del tempo sì 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 ah ananzi eh penso che sia una donna vampiro o qualcosa del genere ecco 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 questo gioco oddio peghetto pazzo psicopatico oh beh è proprio colpo di culo letteralmente boom au aia non fare la laida non fare la laida non fare la laida la laida boom non prendere colpi ho vinto te vai con le coltellate come se non ci fosse un domani cos'è questa roba cos'è questa roba aia laida lezza schiacciato un aia no ma adesso mi ha schiacciato lei a me viazza la cosa ora mi hai rotto peghetto wind everywhere aia ok forse forse no forse no forse no ho come questa impressione povero peghetto non ho fatto niente di male peghetto le sue avventure magiche aia colpito aia au boom in volo attenzione non ti aspettavi eh aia pure questo io non mi aspettavo morirai con me ti ho coltellato come non mai attacco la testa si stacca la testa cos'è questa roba questo schifo cos'è questo schifo dimmi cos'è questo schifo ragazzi scusate un attimo ok diciamo si ho detto scusate un attimo presumo che questo qua non posso fare la 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 aia au ma il povero peghetto lo distruggi così io vado avanti così eh eh io non so au è stupido lo posso fare finchè posso fare quella mossa sono per me va tutto il mondo va bene aia penso che mi ha ammazzato alien aia una cragnata proprio letteralmente proprio ok ho perso vediamo un po' lui animus aia eh sì sì però non vale lui c'ha anche gli aiutanti eh non vale allora come mi sono rotto proviamo asci sembra figo asci mamma mia sarò io che faccio schifo non lo so poi lo riferiscono slide pezzi e attacco dei mille corpi i pugnali volanti tanto ho perso essenzialmente ho perso appunto sto bestione qua se mi trovano di pianta a quanto vedo va bene ragazzi per questo video è tutto ci vediamo alla prossima puntata di giochi indie qui è lord spider che vi saluto e ciao ciao